Il ciclo dei rifiuti territoriale, che ha come epicentro l'area comunale per l'intera impiantistica, porta con sé ancora tanti punti irrisolti. Il piano regionale di recente è pervenuto a Palazzo di Città. Il sindaco Di Stefano, come ha comunicato pubblicamente, ha inviato una nota piuttosto dettagliata all'assessorato regionale all'energia, indicando le criticità maggiori dall'eccessivo ampliamento e la discaricata in pazzo ancora in fase embrionale fino al no secco ad eventuali termovalorizzatori. Peraltro una linea sposata anche dal Movimento 5 Stelle, che ha a sua volta inoltrato attraverso il gruppo regionale delle osservazioni che sono state trasmesse al sindaco Di Stefano per il tramite del capogruppo consigliare Francesco Castellana, che è anche componente della Commissione Ambiente. Nelle prossime settimane invece a Palermo, al Dipartimento Acqua e Rifiuti, è in programma un tavolo richiesto dalla guida della SRR4, attualmente portata avanti dal sindaco di Deglia Gianfilippo Bancheri. Ancora una volta si cercherà di capire quale ruolo possa avere lato CL2 liquidazione. C'è da valutare infatti se l'Ato possa gestire l'impiantistica a partire dal sistema di compostaggio di Brucazzi, sottolinea proprio Bancheri. Il presidente SRR si trova in linea con gli altri sindaci dell'ambito che in più occasioni hanno richiesto al commissario Ato Giuseppe Lucisano di affrontare la questione della chiusura della fase di liquidazione del passaggio degli asset alla stessa SRR attraverso l'inausi impianti SRR. Il commissario ha sempre riferito di attenersi alla normativa e alle decisioni della giustizia amministrativa. L'impianto di compostaggio di Brucazzi, ancora nella piena disponibilità del lato CL2 liquidazione, anche se i comuni del territorio non conferiscono nel sistema, doveva ripartire a pieno regime già d'inizio anno, ma almeno due danneggiamenti ne hanno rallentato la graduale ripresa. Da tempo c'è evidente sfilacciamento istituzionale nei rapporti tra i sindaci del lato e il commissario Lucisano. Il tavolo in regione dovrebbe servire a dare spunti ulteriori in una vicenda comunque piuttosto complessa da dipanare.